Gossipita VIP, se lo sussurra, lo svegliamo. Kanye West e Bianca Censori sarebbero vicini alla separazione, dopo quasi due anni di matrimonio. Stando a quanto riportato da TMZ, la crisi tra il rapper e l'architetta australiana è ormai evidente. Con Bianca che non è stata vista accanto a Kanye nelle sue ultime apparizioni pubbliche. La scelta di Kanye di trasferirsi stabilmente a Tokyo sarebbe uno dei motivi principali della rottura. Decisione che Bianca non avrebbe condiviso. Per questo, pare che abbia deciso di tornare in Australia, per stare con la sua famiglia e allontanarsi dalla vita sotto i riflettori. Nonostante le speculazioni, la coppia non ha ancora rilasciato commenti ufficiali. L'ultima volta sono stati visti insieme il 20 settembre, dopodiché è calato il silenzio. Il loro matrimonio è stato sempre molto discusso, anche a causa della riservatezza iniziale, poi seguita da continui gossip sulla loro vita privata e le scelte eccentriche di entrambi.